Rai. Il terribile annuncio di poco fa di Fiorello. Addio. I fan sconvolti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Dopo l'annuncio dell'addio di Amadeus alla Rai, anche Fiorello è pronto a prendersi un anno sabbatico. Questa indiscrezione, che ha iniziato a circolare recentemente, suggerisce che lo showman siciliano stia considerando una pausa dopo l'uscita del suo collega e amico Amadeus. Secondo alcune indiscrezioni la decisione di Fiorello è ricchi inducibile a un prossimo abbandono della Rai. La scelta dovrebbe quindi indicare un addio definitivo alla televisione di Stato. Infatti, secondo le voci, il desiderio di Fiorello di allontanarsi temporaneamente sarebbe influenzato dalla recente transizione di Amadeus a Discovery. Nonostante ciò, le speculazioni parlano di un possibile futuro di Fiorello al di fuori della Rai. Magari proprio su Discovery. Seguendo le orme di Amadeus. Fiorello ha più volte affermato di preferire lavorare su progetti specifici, definendosi un, battitore libero. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.